Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma ci sono 5 km di coda per una perdita di carico adesso rimossa, tra Aglio e Calenzano o Sesto Fiorentino. Sempre in A1 per lavori di realizzazione della terza corsia, domani notte in orario 22.6 resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni. In A11 stanotte resterà chiuso il tratto tra l'allacciamento per raccordo Lucca-Viareggio e Pisa Nord in direzione Pisa in orario 21.6. Sulla Fibbilicco ed è un'uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Si ricorda che oggi è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico, info e modalità sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!